Siamo noi la famiglia Ciao a tutti, nel video di oggi Fedez mostra come Leone e Vittoria erano emozionati al suo rientri a casa In serata Chiara prova a dedicare una dolce canzone a papà Fedez Vi lascio al video, buona visione Adesso voglio parlarvi di questo Ho rilasciato un'intervista sul Corriere della Sera Due pagine, diciamo un'intervista bella corposa E volevo spiegare il perché ho deciso di rilasciare un'intervista Ringrazio Aldo Cazzullo tra l'altro per l'opportunità Come saprete non sono solito fare interviste su giornali Però in ospedale in questi giorni ho riflettuto che Così come ci sono milioni di persone sui social Ci sono altre tante persone che non utilizzano questo mezzo E soprattutto credo che il giornale ad oggi Sia ancora lo strumento con il quale il potere si informa E siccome parlo di tematiche come la salute mentale E insomma cose che mi stanno abbastanza a cuore Ho detto perché no E ho colto questa occasione Quindi potete trovare questa intervista in edicola Ma per voi del web C'è anche l'articolo online Vi lascio il link qua sotto Ci tengo veramente tanto perché parlo Parlo veramente di tutto Quello che ho passato e sto passando E insomma mi piacerebbe sapere cosa ne pensate Vi lascio il link qua sotto La colomba vola È per te Il 13 dicembre È per... Non mi ricordo più come È per te La campanella a scuola È per te Ogni cosa che c'è Ninna na Ninna e Vuoi chiedere scusa a Lorenzo? Scusa Lorenzo Ciao a tutti Sono molto felice di essere tornato a casa Volevo ribadire ringraziamenti a tutto lo staff medico e infermieristico del Fatebene Fratelli Volevo ringraziare anche l'Avis Che mi ha lanciato un bellissimo appello in questi giorni A cui rispondo in maniera assolutamente positiva E in queste settimane cercheremo di capire cosa fare per far capire l'importanza di donare il sangue Nella prossima storia vi giro questo bellissimo appello che mi hanno fatto Se ti è piaciuto il video lascia un like ed iscriviti al canale Ciao